Buonasera, benvenuti all'edizione serale del Tg6. E scontro fra Italia e Unione Europea, non si placa la polemica sul salvataggio degli istituti di credito, commissariati tra cui la Carichietti. Ora l'attenzione si è spostata sull'eventualità di rimborsare i quanti hanno perso i loro soldi con le obbligazioni subordinate delle banche. Oggetto del decreto Renzi, Bruxelles però sembra opporsi a questa eventualità. Alfredo Primante. Da un lato investitori e risparmiatori, dall'altro chi avrebbe dovuto controllare ed evidentemente non l'ha fatto o l'ha fatto con molta superficialità, leggi Banca Italia e revisori dei conti, nel mezzo il dibattito politico interno al nostro paese sul decreto salvabanche ed il braccio di ferro con Bruxelles per le misure di rimborso che il ministro delle finanze Padoan ha definito umanitarie. E' un puzzle complesso quello determinatosi dopo il salvataggio dei quattro istituti di credito italiani, tra cui la Bruxelles e Carichietti. Fino ad ora chi ci ha rimesso è stato, chi avendo comprato obbligazioni subordinate si è trovato oggi con un mucchio di carta straccia in mano. Però ci sono da fare dei distinguo, tanti hanno voluto investire a tratti da tassi di interesse fuori mercato, speculando ed accettando il rischio compensato dall'alto guadagno. Altri, invece, si sono ritrovati con obbligazioni subordinate inconsapevolmente e magari ci avevano messo tutti i propri risparmi. Ecco, questo è lo spartiacque, non si può certo pensare di creare il precedente, per cui chi specula ha poi il paracadute dello Stato, cioè dei contribuenti. Però, altresì, bisogna tutelare chi è stato truffato. In questo senso dovrebbe essere letta la richiesta mossa dall'Associazione Vittime del Salvabanche al Presidente del Consiglio Renzi, di immediata correzione del decreto per il salvataggio delle quattro banche commissariate e la riammissione di tutti i titoli coinvolti alla libera negoziazione sui mercati. Intanto, Unicredit fa sapere di non essere interessata ad acquistare né banca Marche, né tantomeno Etruria, Carife e Carichieti, per bocca del suo amministratore delegato Federico Ghizzoni. Tutto fermo? Certo che no. Il braccio di ferro, come detto, si è spostato in Europa, con il governo italiano che spinge per una soluzione che tamponi il problema, è l'Europa che, attraverso le parole del commissario Il, dice è il governo italiano a essere alla guida del processo di salvataggio delle quattro banche e ha responsabilità per questo. Il governo italiano, continua poi il commissario, ha discusso a lungo con la Commissione, in particolare con la Direzione Generale Concorrenza, che ha ritenuto che le misure prese erano compatibili con la legislazione dell'Unione Europea sui salvataggi bancari. Dichiarazioni che suonano come un no alle richieste italiane, con buona pace degli obbligazionisti. E sul tema delle banche intervengono anche i senatori del PD che stanno mettendo a punto un disegno di legge per istituire una commissione d'inchiesta sulle banche che dovrebbe venire depositato a breve a Palazzo Madama. In attesa di conoscere il testo, sono numerosi i democratici che segnalano di aver sottoscritto l'iniziativa portata avanti dal presidente della Commissione Cultura, Andrea Marcucci, a cominciare dalla senatrice Donatella Mattesini. E ora parliamo del bilancio regionale. La Corte dei Conti censura la Regione Abruzzo per i ritardi nel riaccertamento dei debiti e nella tempistica di approvazione dei bilanci. L'assessore Silvio Paolucci spiega però che è impossibile farlo prima del patto di stabilità del Governo. Filippo Tronca. Siamo stati tra le primissime regioni in Italia ad averla approvato il 2 di dicembre. Molte altre regioni in giunta sono arrivate tra il 15 e il 20 e anche oltre di dicembre. In secondo luogo bisogna tener conto che senza la legge di finanziaria nazionale del Governo non si conoscono neanche i trasferimenti che vengono erogati alle regioni e quindi è difficile comporre un bilancio non avendo il dato delle entrate. I tempi astratti presi in considerazione della Corte dei Conti non sono quelli della politica, della vita reale e dunque inevitabile per la Regione Abruzzo come per tutte le altre regioni italiane approvare oltre le tempistiche stabilite dagli statuti e dalle leggi dello Stato il suo bilancio di previsione, entro ottobre e prima ancora il documento di programmazione economica e finanziaria se prima il Governo non ha approvato la sua di manovra finanziaria cosa che ancora non avviene. Questa è la risposta dell'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci alla deliberazione del 3 dicembre della sezione di controllo della Corte dei Conti che è tornata a censurare la Regione Abruzzo proprio per lo sforamento dei tempi avvenuti nel 2014 e che si ripeteranno quest'anno e per non aver effettuato la ricognizione dei debiti pregressi. Ma hanno rilevato che nello statuto della Regione Abruzzo ci sarebbe scritto il 31 ottobre come tempo di approvazione tenuto conto che è uno statuto evidentemente datato sul coordinamento tra la legge nazionale e la legge finanziaria regionale. La manovra di bilancio sarà approvata dalla Giunta proprio questa sera e arriverà in Consiglio, si presume, intorno a Natale. Ieri intanto sono state consegnate le rindicontazioni e i riaccertamenti dei debiti aggiornati al 2013 con la conferma che sull'Abruzzo grava un salasso da 538 milioni di euro che dovranno essere pagati con rate annuali da 70 milioni. Ma la colpa di tutto ciò, sottolinea Paolucci, è delle precedenti legislature. Ci sono 538 milioni di euro di debiti secondo l'ultimo riaccertamento dei residui che è quello del 2013 che abbiamo fatto noi nel 2015 e vorrei solo ricordare che l'ultimo riaccertamento fu del 2004. Ecco perché trovo assolutamente ingenerosi, capziosi e del tutto fuori luogo alcune argomentazioni che utilizza l'opposizione quando per sei anni non ha fatto il suo dovere sul riaccertamento dei residui. Siamo noi correndo e cercando di mettere rimedio e riparo a quelli che sono ritardi di lunghissimi anni. E questa mattina a Teramo la visita di Gianfranco Fini ospite di un incontro dibattito sul tema nuovi scenari geopolitici, immigrazione e integrazione. Elisa Leuzzo. Coinvolgere gli studenti in un'analisi critica dei problemi e dei fenomeni che stanno interessando tutta la nostra società. Questo è l'obiettivo dell'incontro dibattito con Gianfranco Fini voluto dal Rettore Luciano D'Amico. Un uomo delle istituzioni che grazie all'esperienza che ha accumulato a servizio delle istituzioni potrà offrire una prospettiva, potrà offrire degli spunti di riflessione per affrontare ed inquadrare un tema che è assai problematico e per il quale non abbiamo ancora una risposta già ben definita. Si avvierà una riflessione. L'intervento del Presidente Merito della Camera aprirà un ciclo di incontri con i protagonisti. La legge Bossi Fini su immigrazione, integrazione, visti i fatti di cronaca possiamo dire che non ha portato ai risultati sperati? No, la legge risente degli anni che ha nel senso che la legge prevedeva e prevede tuttora che il migrante che arriva in Italia per ragioni economiche possa avere il permesso di soggiorno solo se ha contratto di lavoro. Il problema oggi non è più questo perché di tanti che ne arrivano più della metà chiede diritto di asilo perché viene da un paese in guerra, perché rischia la vita. Il diritto d'asilo è riconosciuto a livello internazionale l'Italia non si può rifiutare di dare asilo a chi ne ha diritto. È l'Unione Europea che deve dare delle risposte non possono essere più i singoli stati nazionali. Queste risposte a mio modo di vedere significano in primo luogo archiviare e superare il trattato di Dublino perché anche quel trattato risente degli anni che ha e poi prevedere sia per il diritto d'asilo sia per l'alloggio, l'allocazione degli aventi diritto sia per i rimpatri di coloro che questo diritto non ce l'hanno degli interventi europei non nazionali. In questo incontro di oggi qui all'Università di Teramo qual è il messaggio di cosa principalmente vorrà sottolineare? La complessità di questa questione si parla troppo spesso dei fenomeni migratori come se fossero oggetto della propaganda in campagna elettorale in più c'è l'enorme questione di cui si parla pochissimo della integrazione arrivano in Europa si stabiliscono in Europa mettono al mondo figli in Europa il problema che la politica deve cominciare a guardare soprattutto noi italiani che non abbiamo alle spalle un passato da potenze coloniali ma fra vent'anni, fra trent'anni coloro che sono stabilmente qui o che sono nati qui sentiranno l'Italia come la loro patria anche se non è la terra dei loro padri? Ed ora la cronaca posti sotto sequestro dal comando stazione forestale di Ortona i sistemi fognari di una cantina a tollo ed è un frantoio a crecchio nell'ambito di controlli sugli scarichi nelle aste fluviali limitrofe al mare gli scarichi erano privi di un sistema di depurazione direttamente convogliati in acque superficiali e nella fogna comunale come rilevato da analisi effettuate dall'Arta di Chieti deferite all'autorità giudiziaria e legale rappresentanti delle rispettive società e nell'ultimo semestre il personale della forestale di Ortona ha sottoposto a controllo numerosi depuratori del comprensorio ortonese e paesi limitrofi il cui esito, si legge in una nota è stato piuttosto allarmante dei 25 depuratori controllati 17 sono risultati non a norma con altrettanti illeciti amministrativi contestati andiamo a Pescara dove è stato presentato un progetto finanziato con fondi regionali che si chiama Sulla Buona Strada prevede l'utilizzo di nuove tecniche di controllo del territorio urbano da parte della Polizia Municipale Paolo Renzetti il progetto si chiama Sulla Buona Strada ed è un progetto cofinanziato dalla regione ovviamente con fondi europei nell'ambito delle risorse par FSC 2007-2013 si agisce a livello di sala operativa e qui ecco un nuovo brogliaccio elettronico un nuovo software per quanto riguarda turni e servizi piuttosto che una georeferenziazione cartografica di un altro aspetto quindi radio passaggio al digitale con 55 radio digitali portatile e 15 veicolari che ovviamente andranno ampliate fino a coprire il tutto e con due nuove antenne radio che permettono di coprire per la prima volta nella storia da un punto di vista di contatti radio tutta la città di Pescara un'altra particolarità di questo progetto è il fatto che oggi grazie al sistema di georeferenziazione possiamo individuare sul territorio dove sono dislocate operanti le singole pattuglie automontate con immediatezza di intervento ovviamente laddove accada qualcosa sia nei confronti dei cittadini sia di ausilio alle stesse ulteriore parte di questo composito progetto è l'adozione di un nuovo sistema di elaborazione dei dati dell'infortunistica nonché degli incidenti stessi che permette migliore omogeneità di trattamento e nonché maggiori tempi più rapidi di risposta per i cittadini si è tenuto ieri a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il tavolo tecnico per il progetto della variante SS17 che avrà l'obiettivo di velocizzare il collegamento tra l'Aquila e Pescara presenti al summit nella capitale anche il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci i dettagli nel servizio di Gianmarco Menga si è riunito ieri mattina a Roma nella direzione generale per le strade e autostrade un tavolo tecnico sulla SS17 variante sud all'abitato urbano dell'Aquila con l'obiettivo di velocizzare il collegamento tra il capoluogo di Regione e Pescara nel corso del summit è emerso che l'ANAS redigerà entro il mese di gennaio 2016 la progettazione dell'infrastruttura viaria fino all'area di Poggio Picenze nei pressi dei capannoni industriali di Ludovici quanto al tratto successivo per la scelta dell'opzione di passaggio a nord o a sud dell'abitato di Poggio Picenze sarà decisivo un supplemento di confronto e approfondimento da parte dell'amministrazione e dei cittadini del Paese alla riunione convocata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio hanno partecipato tra gli altri il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso il Consigliere regionale Pierpialo Pietrucci Antonio Gentile, Francesco Di Paolo e Raffaele Iovennitti Sindaci di Fossa, Bariciano e Poggio Picenze e la Presidente del Consiglio territoriale di Paganica Sara Cecala la velocizzazione del collegamento tra l'Aquila e Pescara è una priorità, ha spiegato D'Alfonso che va perseguita senza indugio perché attiene al rilancio e allo sviluppo oltre che del territorio aquilano di tutto l'Abruzzo il Presidente della Regione ha anche ribadito che la Regione Abruzzo si impegnerà di intesa con i comuni del territorio e con le associazioni territoriali a redigere procedure e progetto per la migliore valorizzazione ambientale, fluviale e culturale nel sito ricompreso tra Onna e San Gregorio È uscita dalle stampe la nuova lettera pastorale del Vescovo di Teramo e Atri il Monsignor Michele Seccia dal titolo Dio di misericordia per un cammino comune nell'anno giubilare Vediamo Si può definire un messaggio e un invito insieme? Non ci sarebbe stato bisogno di questa lettera visto che nella precedente avevamo preso un impegno come diocesi triennale ma è necessaria è necessaria per approfondire in modo divulgativo se posso usare questo termine ciò che il Papa ha voluto dirci con l'anno della misericordia e allora sono quattro passi Il mio riferimento fondamentale nella Magistero nella Catechesi sono le virtù teologali fede, speranza e carità la fede ci crediamo che Dio ci perdona sempre è sempre disposto al perdono che è Lui che prende l'iniziativa dobbiamo solo sentire il moto della nostra coscienza davanti al male oppure ad una opposizione a un torto subito o a un torto fatto e allora se c'è fede io credo che Dio mi perdona Ultimo passo siamo disposti a fare questo percorso? A metterci in gioco? Ecco il senso del pellegrinaggio il senso della lezione divina il senso poi fondamentale non solo di attraversare la Porta Santa ma di far seguire a questo gesto un'opera di misericordia concreta oggi più che pellegrino dobbiamo parlare dei migranti eccetera ecco come l'anno della misericordia si concretizza e diventa un invito ci siamo o vogliamo fare solo delle belle celebrazioni dove tutti siamo contenti di aver fatto un altro segno di croce aver sentito un'altra predica e basta è molto di più perché la nostra vita nel rapporto con gli altri nel rapporto con Dio è veramente in gioco prima ancora di leggere la lettera pastorale del Vescovo questo documento è ancora più importante perché ci porta alla radice della nostra fede ad una visione che probabilmente spesso abbiamo dimenticato confondendo o il perdonismo o quel senso di giustizia nel non perdonare insomma tante motivazioni la Chiesa o meglio Gesù volto misericordioso del Padre ci ha dimostrato come il suo amore è andato nei confronti di tutti e ci dice diventate misericordiosi come il padre a Pescara il 13 dicembre si terrà il concerto per la giornata mondiale della solidarietà umana in collaborazione con la regione l'associazione di Martini e con Fartigianato uno dei temi trattati è sempre è quello delle sempre più numerose migrazioni verso l'estero degli anziani abruzzesi e del fenomeno che viene chiamato non in fuga vediamo anziani in fuga dall'Italia anche dall'Abruzzo come regione e come assessorato anche all'immigrazione state pensando particolari misure proprio per questa categoria di cittadini il nostro lavoro è quello di far sì che questi abbiano dei servizi adeguati abbiano strutture adeguate per poter condurre la parte diciamo finale della loro vita in maniera positiva questa grande iniziativa verrà destinata a raccogliere fondi per la solidarietà umana per aiutare tutto ciò che serve a rendere la vita dell'anziano più diciamo consona le proprie aspettative all'interno della propria regione ci sono anziani che lasciano l'Italia ci sono anziani che vivono in Italia in condizioni poi difficili invece per quello che sono le competenze le normative della regione Abruzzo intervenire in maniera che ci siano i servizi come dicevo prima adeguati ma anche per quelli che hanno difficoltà e che vogliono e vanno all'estero dei cosiddetti nonni in fuga noi dobbiamo ridurre questo fenomeno l'ANAP è praticamente un sindacato dei pensionati quindi più che presentare tutte queste problematiche a chi oggi ci governa non può fare purtroppo così come per ogni tipo di sindacato non veniamo molto ascoltati come invece accadeva un tempo noi possiamo sensibilizzare l'opinione pubblica a far sì che si arrivi a queste modifiche che ci sono ma per tutto parlo della sanità parlo delle tasse di tutto ciò a cui il pensionato va incontro Nell'ambito del progetto NETCET questa mattina a Pescara sono stati presentati i risultati riguardanti la tutela in Adriatico di Cetacei e Tartarughe e Manini il servizio Assessore oggi presentate questo progetto NETCET che riguarda la tutela di Cetacei e Tartarughe nel mare Adriatico sì oggi diciamo che diamo i dati finali perché abbiamo concluso questo progetto importante ed è stata la dimostrazione che quando i finanziamenti europei vengono utilizzati vengono utilizzati al meglio l'Europa ovviamente può fare la differenza nella nostra città questo centro è diventato ovviamente un'eccellenza ma non solo sul territorio nazionale e come abbiamo avuto modo appunto di confrontarci con a Venezia nel convegno appunto finale di un progetto di un programma più ampio che la Commissione europea ha voluto finanziare perché crede nella tutela appunto dei mari dei Cetacei e della biodiversità abbiamo dato davvero dimostrazione che l'Europa può fare la differenza un progetto un progetto straordinario l'unico progetto che ha come output e quindi la conservazione ma soprattutto la tutela dei Cetacei e delle Tartarughe un progetto che vede la regione Abruzzo e il territorio della regione Abruzzo e la città di Pescara estremamente significativo nella originalità nel conseguimento degli obiettivi oggi quale autorità di gestione devo essenzialmente constatare con grandissima attimizzazione il conseguimento dei risultati risultati che come giustamente lei ha specificato non solo limitati al singolo progetto ma devono interagire deve essere una capitalizzazione una clusterizzazione con gli altri progetti un mare adriatico che vede anche un'area trasportistica diversa e quindi una qualità dell'ambiente delle acque che rappresentano il cuore del mare adriatico e quindi di 8 stati di cui 4 stati in preadesione in un momento geopolitico estremamente significativo per la Commissione Europea Continua il cartellone dell'Aquila Film Festival e oggi protagonista il rapporto tra informazione e manipolazione vediamo la rete che dà a teatro della libera e orizzontale comunicazione che diventa micidiale strumento di manipolazione di massa il ruolo insostituibile del lavoro del giornalista che ha abitudine di filtrare e verificare la notizia e resta un baluardo contro l'invasione delle bufale e delle improbabili false flag il potere che nasconde le informazioni intimidisce i giornalisti con leggi bavaglio e querele temerarie tanti e tutti interconnessi i temi al centro del convegno su informazione e manipolazione oggi all'auditorium del parco dell'Aquila uno degli eventi previsti nel cartellone della non edizione dell'Aquila Film Festival che proporrà fino al 18 dicembre una rassegna dedicata al cinema d'autore con proiezioni giornaliere convegni dibattiti workshop concerti degustazioni e molto altro protagonisti della prima sezione del convegno Ettore di Cesare consigliere comunale all'Aquila ma soprattutto una delle anime di Open Police associazione che della trasparenza della pubblica amministrazione ne ha fatto una ragione di vita e Valeriano Salve tra i massimi esperti italiani di social media il mestiere del giornalista dovrebbe anche essere quello di tirare fuori storie dai dati tirare fuori delle notizie dai dati e finché questi dati non sono a disposizione la disparità di informazioni tra chi ha il potere e chi non ce l'ha come dire pregiudica lo stesso funzionamento della democrazia quello che possono fare hanno senza punta su come colossi come Google Facebook possono veicolarci delle informazioni a loro scelta in maniera totalmente inconsapevole per gli utenti il fatto che raccolgono una gran mole di dati spesso per gli utenti è completamente trasparente questa cosa un utente non si rende conto di quanto della propria vita cede a questi colossi dell'informazione ed è un rischio insomma tira le somme il presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta i giornalisti stanno lì stanno lì a fare i cani da guardia nei confronti dell'opinione pubblica per disvelare queste cose a scaricare sull'informazione questi elementi di contraddizione significa fare un danno alla democrazia la legge Bavaglio sicuramente è un elemento che danneggerebbe in maniera fondamentale il diritto di critica ora apriamo la pagina dello sport con le designazioni per la diciottesima giornata di campionato Ivano Pezzuto di Lecce dirigerà Avellino Lanciano e Daniele Martinelli della sezione di Roma sarà l'arbitro di Pescara Virtus Entella non è bastato un buon secondo tempo ai rossoneri per fermare la vice capolista isolana e ancora in rete Antonio Piccolo arrivato a quota 7 gol ora sabato ad Avellino i frentani dovranno cercare di fare assolutamente punti dopo il servizio vediamo anche l'intervista al mister D'Aversa del nostro scusate Paolo Lorenzetti vediamo ecco qui le immagini che partono con la Virtus Lanciano che aveva tante assenze Bacinovic Amenta Ferrari Di Cecco Mammarella dunque in difesa c'è Di Matteo terzino sinistro ancora regione centrale a centrocampo Bastola Paghera e Crecco in attacco c'è Di Francesco e non Marilungo a comporre il tridente con Piccolo e Padovan nel Cagliari ampio turnover da parte di Rastelli con Cerri Lex di turno e Giannetti in attacco Farias a supporto Teio a centrocampo Barreca Balzano e Salamon le novità nel settore difensivo qui c'è un retropassaggio di Barreca per Storari un retropassaggio che viene giudicato volontario quindi c'è una punizione a due che Piccolo tira sulla barriera e al tredicesimo c'è già il vantaggio del Cagliari il cross di Farias Cucino scavalcato sul secondo palo Teio si coordina splendidamente gran rovesciata nulla da fare per Casadei gran gol di Teio sull'assist di Farias dunque partita difficile per la Virtus che va ancora più in salita per via di questo gol dopo 13 minuti di gioco gran gol di Teio poi ancora Farias scatenato percussione centrale dribbling e poi un tiro un po' strozzato che Casadei riesce a respingere rivediamo salta qui l'anti Farias conclusione respinta da Casadei poi la Virtus che ci prova con l'azione di Padovan il suo dribbling la sua sterzata poi il tiro di Di Francesco che viene contrato da Salamon ecco qui Federico Di Francesco novità di questa serata ma poi arriva il raddoppio del Cagliari il minuto il 34esimo il colpo di testa del polacco ex pescara Bartosz Salamon il cross di Di Gennaro pennellato con il sinistro torsione vincente del difensore al primo gol in maglia Cagliaritana siamo nella ripresa la Virtus Lanciano comunque non demorde anche se il primo tempo non è stato granché tiro dalla distanza tentato da Luca Di Matteo la parata di Storari poi il gol della Virtus Lanciano il gol che riaccende le speranze della Virtus minuto 61 schema lo vedete Paghera Puccino e poi il sinistro di Piccolo sorpreso Storari che aveva piazzato solo tre uomini in barriera neanche il tempo di sperare nella rimonta che il Cagliari però chiude il discorso ancora Farias a fare affette la difesa della Virtus arriva sul fondo a ridosso dell'area piccola facile facile il tocco sottoporta di Alberto Cerri il grande ex proprio al Lanciano proprio al Biondi segna il suo primo gol con la maglia del Cagliari esulta e suscita la stizza dei tifosi di casa ma poi dirà nel dopo partita ci tenevo tanto il mio primo gol in maglia Cagliaritana non segnavo da tanto tempo e non è stata una esultanza priva di riguardo verso la Virtus Lanciano era la grande voglia di segnare punizione di Lanini che ha fatto molto bene quando è entrato in campo le spinge Storari poi Mari Lungo preceduto forse con un intervento falloso rivediamo la parata di Storari sulla punizione di Lanini e poi un intervento ai danni di Mari Lungo la Virtus chiude in 10 uomini per questo intervento scomposto da parte di Matteo su Giannetti cartellino rosso per l'ex Terramano che si fa male e poi quando si rialza deve subire la decisione disciplinare del direttore di gara espulso dunque Luca Di Matteo che sarà squalificato per il match di Avellino di sabato prossimo poi ancora un tentativo di Cerri dal limite dell'area palla sopra la traversa arriva il fischio finale dunque la Virtus Lanciano soccombe al Biondi contro il Cagliari non si può dire che abbiamo fatto tutto al massimo di quello che potevamo sotto l'aspetto dell'impegno sicuramente è chiaro che qualche errorino l'abbiamo commesso però devo dire che la squadra comunque è stata viva per l'arco di tutta la partita nonostante di fronte avessimo un'ottima squadra una squadra forte anche quando siamo rimasti in 10 comunque ha cercato comunque di infastidire il Cagliari e bisogna guardare in questo momento lo so che una posizione di classifica non ci fa star sereni però per quanto riguarda me devo guardare un aspetto positivo che comunque la squadra è viva e dispiace perché è la prima sconfitta casalinga anche se viene contro il Cagliari c'è da maturare però sotto l'aspetto delle prestazioni fuori casa perché se non maturiamo è difficile raggiungere il nostro obiettivo se andiamo a analizzare un po' la partita lì abbiamo preso la circostanza del gol dove eravamo tutti dietro la linea della palla e siamo stati un po' ingenui sul 2 di contro 2 che si è creato in fascia e sulla situazione del cross il giocatore era solo però poi diamo bravura anche merito al giocatore che ha fatto un bellissimo gol è chiaro che lì invece dopo il secondo tempo siamo stati più aggressivi siamo andati alla ricerca un po' più alti li abbiamo messi in difficoltà però è impensabile contro il Cagliari fare una pressione così spudolata per 95 minuti probabilmente avrebbe preferito da Versa affrontare il Cagliari con qualche scelta in più ma io credo che i ragazzi che hanno giocato hanno fatto il massimo è chiaro che mancavano dei giocatori importanti però devo dire che quelli che li hanno sostituiti vanno fatto bene il pensiero deve essere sempre quello propositivo è positivo in questo momento sinceramente non me la sento di stare a dare delle colpe o a mortificare questi ragazzi perché sotto l'aspetto dell'impegno in questo momento stanno andando tutto è chiaro ripeto che stiamo commettendo a volte commettiamo degli errori però bisogna sempre rimanere equilibrati la strada è ancora lunga ed ora il pescare a battere la Virtus Entella è l'imperativo per allontanare le voci di crisi e Oddo per la sfida con i Ligori medita cambiamenti e si affida la voglia di riscatto dei suoi ragazzi il servizio è un componente di sangue di cattiveria di saper stare in campo da squadra di serie B quello è quello che un pochino viene meno il nostro piccolo grande difetto è quello lì che dobbiamo callarci un pochino più in questa realtà ripartiamo dall'analisi della partita vediamo dove abbiamo sbagliato e che i nostri errori diventino dei nostri pregi lavoriamo perché questi errori non si verificano più o si verificano il meno possibile tu hai vissuto tante stagioni hai superato momenti delicati questo è diciamo il periodo più difficile della stagione è vero che si supera lavorando però credete ancora nei vostri mezzi perché questo sembrava il momento più facile visti gli avversari invece la B è tutt'altra cosa no no io lo sapevo che questo era il momento più difficile altro che quindi io vi posso dire che dentro lo spogliatoio che ci credete o no abbiamo una voglia di scendere in campo a sabato incredibile veramente arriva un'altra squadra in forma arriva un'altra squadra in forma guidata bene con giocatori molto validi giocatori di categoria prepareremo la partita al meglio non vediamo l'ora di giocare poi sarà ancora più bello vincere perché significa che a quel punto il gruppo avrà dato risposte importanti ed ora la Lega Pro sembra essere tornato il sereno tra l'allenatore del Teramo Vincenzo Vivarini e il patron Luciano Campitelli la formazione bianco-rossa però continua a vivere un periodo nero sotto il profilo dei risultati per uscire dal momento bisognerà battere tre nell'ultimo incontro casalingo nel campionato 2015 in programma sabato ore 15 allo studio Bonolis contro la Pistoiese l'intervista all'attaccante Morea ascoltiamo non è bello guardarsi in quella posizione nonostante comunque i punti di penalizzazione saremo comunque a metà classifica quindi un po' ci penalizza ma quello che dobbiamo ammigliare più è proprio l'atteggiamento e la prestazione in trasferta sì sì certamente il mister ha tutto il nostro appoggio noi cerchiamo di eseguire tutto quello che ci chiede lui e dovremo fare ancora di più per dare un appoggio ancora di più al mister perché se lo merita ma non penso che sia così certo magari abbiamo una carica in più quando siamo più stimolati quando siamo un po' in difficoltà però penso che non dobbiamo mai sentirci rilassati anche che dopo una vittoria dobbiamo sempre stare sul pezzo pensare alla partita successiva senza mollare niente sabato abbiamo un altro scontro diretto noi arriviamo da questa sconfitta ma dobbiamo cercare di preparare al meglio la partita lavorare molto bene e cercare di fare un'ottima prestazione ma anche per il morale perché ci serve molto e poi arrivare all'ultima partita con la prima in classifica l'Aquila Calcio ha presentato il calendario ufficiale della squadra vediamo a due anni di distanza torna il calendario ufficiale dell'Aquila Calcio che è stato presentato nel pomeriggio di ieri all'auditorium Sericchi alla presenza tra gli altri della squadra dello staff tecnico e della dirigenza il direttore generale Fabio Guida Aureli ha spiegato come sia nata l'idea di ripristinare la tradizione del calendario interrotta nel 2013 l'obiettivo è stato quello di riallacciare rapporti con il tessuto sociale e di progettare scatti che ritraessero i calciatori rosso-blu nei luoghi più significativi della città al progetto sponsorizzato dall'imprenditore Matteo Gianfelice di Ecodisc hanno preso parte 13 fotografi aquilani Fabrizio Tomei Daniele Di Benedetto Luigi Baione Luca Pitone Ragniero Pizzi Paolo Baioni Stefano Pettine Maurizio e Simone Santarelli Chiara Tarullo Marcello Spimpolo Roberto Grillo Manuel Romano e l'ex bandiera dell'Aquila Calcio Gian Paolo Rossi che compare in copertina assieme all'attuale tecnico rosso-blu Carlo Perrone tra gli scatti c'è anche quello del gruppo aquilano di azione civica Iemo Nancy già partner dell'Aquila Calcio in occasione della campagna abbonamenti estiva soddisfatto della riuscita del calendario il presidente Corrado Chiodi Dal 2013 al 2015 torna finalmente il calendario ufficiale importante come segnala la città Senza dubbio io ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questo progetto in primis Matteo che è questo imprenditore che lavora a Milano ma si sente parte integrante dell'Aquila perché è una persona oltre che essere un tifoso è uno che ci tiene a questo tessuto sociale che noi stiamo cercando di ricreare che è con molte difficoltà sappiamo tutti che adesso in questo momento le problematiche economiche colpiscono un po' tutti e quindi tutti coloro che fanno sforzi del genere devono essere soltanto premiati e ringrazio tutti i fotografi perché anche questo è stato un esempio di armonia e maggiormente di solidarietà nei confronti di tutti perché l'hanno fatto a titolo gratuito quindi non hanno avuto compensi riconoscendo un grosso lavoro dietro a tutto questo quindi è stato veramente un evento eccezionale ringrazio il gruppo Iemon Nanzi che ormai sono presenti nelle nostre iniziative e forse sono ecco loro sono la testimonianza vera della città e quindi io sono contento che dopo due anni abbiamo ricreato questo progetto così importante che sicuramente ci aiuterà a stare insieme il calendario di Rosso Blu è in vendita al costo di 5 euro al momento all'edicola in località San Francesco all'edicola Agostini di fronte al bar Belvedere all'edicola di Pettino a quella adiacente allo stadio Fattori alla tabaccheria di Simone al multiservice di Marco Turzini ma presto verranno comunicati altri punti vendita sul sito www.l'aquilacalcio.com Il Tg6 finisce qui il prossimo appuntamento con l'informazione è quello delle 23 buona serata Grazie a tutti